Eleanor Marx era una grande comunicatrice, anche dal punto di vista delle idee del padre, lei le ha comunicate molto meglio di quanto le comunicasse il padre, era una che appunto i suoi discorsi di piazza erano famosi, era una carismatica, molto carismatica, quindi sicuramente avrebbe avuto lo stesso carisma oggi, declinato in modi diversi. Io credo che il film racconti qualcosa soprattutto di profondamente umano, che ci riguarda un po' tutti, che è l'impossibilità di mettere d'accordo appunto la ragione e il sentimento, l'impossibilità di, la fragilità anche delle nostre illusioni, la fragilità delle nostre convinzioni. Non credo che il film si occupi veramente della questione dell'emancipazione, quanto dell'importanza di conciliare le nostre idee poi invece con le nostre fragilità, che ovviamente siamo tutti degli esseri anche profondamente fragili, lo siamo nel campo sentimentale, nel campo del privato, no? Io ho visto uomini in situazioni esattamente come quella di Eleonor tante volte. Susanna ha già detto in the pasto romantiche heroines, ma in questo film ha anche dato un'imprinta di un'imprinta a questo film. Cosa è stato fatto lavorare con lei? È stato molto interessante perché abbiamo una tradizione di biopics in l'U.K., particolare di libri figuri, period, biopics, ma tendono molto fokussi sull'imprimazione, tendono molto attore, ma questo film era l'opposizione di questo. La scelta aveva costruzione in advance e il film è stato storibordato, quindi è stata un'imprimazione più cinemagrafica, e come le stessi, noi stessi arrivavamo in tutto questo, a un later stage. E per lei era un'imprimazione, tra l'archivazione e la musica, il tempo di mantenere il pubblico un po' distante, perché le stessi all'imprimazioni di analizzare lo stavolto, e rendere condividi di rispondere, invece di solo la straccione emotiva. Ma all'interno, possono capire cosa pensano? Sì, spero. E c'è un'emotional investimento in la storia, ma anche la possibilità di vedere le choices che ha fatto e rendere giudizioni sulle qualità per l'individuo per l'individuo, per l'interesse del mondo, per l'interesse della comunità, ma anche per l'interesse dell'individuo. La battaglia che Eleonore ha avuto all'interesse del XIX secolo sono molto similii a quei giorni. Cosa credo sia una reale ragione per le donne oggi? Ci sono ancora molti paesi del mondo dove le donne terminano l'educazione a 15, dove le donne vengono a 18, hanno bambini molto piccoli. Penso che lei era molto preoccupata con l'educazione. E non solo fare le parole o andare al parliamento, era una professione anche. E in la mattina, all'interesse, all'interesse di scuole dove le donne e le donne all'interesse. E credo che se fosse vivere oggi, sarebbe venuta nel mondo e la loro famiglia di essere un modo più migliore e di essere un modo più migliore per le donne e le donne. E una superiore sulle sociali, credo che sia. Sì, credo che sia. La sua madre era un man che viveva in casa, e la sua vita in la mondo. La sua storia e la sua politica è stata e la sua storia, La sua storia è molto amata da persone, e la sua storia, e la sua storia è stata abbastanza di opportunità di moderno comunicazione. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.